Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria del turno di Abia. Sua moglie era discendente da Ronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Ilisabetta Mentre Zaccaria esercitava il signore, sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Grazie a tutti. 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 E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo e gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo gli disse. Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrà i nomi Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di spirito santo fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggizia dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose Io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio. Ma quando fu uscito, non poteva parlare loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per cinque mesi, dicendo Ecco, quanto ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo, per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth, a una vergine fidanzata un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth, a una vergine fidanzata un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole, e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai nomi Gesù. Questi sarà grande, e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e gli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò, anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio, nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. In quei giorni, Maria si alzò, e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria, e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo, e ad alta voce esclamò Benedetta, sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata, ecco lei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. E Maria disse L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. D'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno Beata, perché grandi cose mi ha fatte l'ipotente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati, e ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia, di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza, per sempre. Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi. Poi se ne tornò a casa sua. Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia, e se ne rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino, e lo chiamavano Zaccaria, dal nome di suo padre. Allora sua madre intervenne e disse, No, sarei invece chiamato Giovanni. Ed essi le dissero, Non c'è nessuno nella tua parentela che porti questo nome. E con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Egli, che sta a una tavoletta, scrisse così, Il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca fu aperta, e la sua lingua sciolta, ed egli parlava, benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. Tutti quelli che gli udirono, le serbarono nel loro cuore, e dicevano, Che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, e profetizzò, dicendo, Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, per chi ha visitato e riscattato il suo popolo, e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti. Uno, che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri, e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante il perdono dei loro peccati. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'Aurora dell'Alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Ora il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, estetto nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. Capitolo 2 In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme perché era della casa e famiglia di Davide per farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta. Mentre erano là si compì per lei il tempo del parto. che era Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anna. Edilla diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione, c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendè intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro. Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lo dava Dio e diceva, Glorie a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro, Andiamo fino a Bethlehem e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Il Signore ci ha fatto sapere. E vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunziato. Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu messo i nomi di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per adempire al suo riguardo la prescrizione della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo Ora, o mio Signore, Tu lasci andare in pace il Tuo servo secondo la Tua parola perché i miei occhi hanno visto la Tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del Tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù restarono meravigliati delle cose che si dicevano di Lui e Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di Lui Ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa figlia di Fanuel della tribù di Aser era molto avanti negli anni dopo essere vissuta col marito sette anni dalla sua verginità era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere sopraggiunta in quella stessa ora anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore tornarono in Galilea a Nazareth, loro città e il bambino cresceva e si fortificava era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua quando giunsi all'età di 12 anni salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa passati i giorni della festa mentre tornavano il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori i quali, pensando che egli fosse nella comitiva camminarono una giornata poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti e non avendolo trovato tornarono a Gerusalemme cercandolo e tornarono a Gerusalemme cercando a grazia di This is a February a Torrent attraverto Site per i parenti e attraverto tre giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri le ascoltava e faceva loro delle domande e tutti quelli che l'udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte quando i suoi genitori lo videro rimasero stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto così ecco tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena ed egli disse loro perché mi cercavate non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro poi discese con loro andò a Nazareth e stava loro sottomesso sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini capitolo 3 nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa la parola di Dio fu diretta a Giovanni figlio di Zaccaria nel deserto ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati come sta scritto nel libro delle parole del profeta Esaia voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i Suoi sentieri ogni valle sarà colmata e ogni monte e ogni colle sarà spianato le vie tortuose saranno fatte e diritte e quelle accidentate saranno appianate e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da Lui razza di vipere che vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi noi abbiamo Abramo per padre perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo ormai la scura è posta alla radice degli alberi ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco e la folla lo interrogava dicendo allora che dobbiamo fare? egli rispondeva loro chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto venero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero maestro che dobbiamo fare? ed egli rispose loro non riscotete nulla di più di quello che vi è ordinato lo interrogavano pure dei soldati dicendo e noi che dobbiamo fare? ed egli a loro non fate estorsioni non opprimete nessuno con false denunzie e contentatevi della vostra paga ora il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo Giovanni rispose dicendo a tutti io vi battezzo in acqua ma viene colui che è più forte di me al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile così con molte e varie esortazioni evangelizzava il popolo ora mentre tutto il popolo si faceva battezzare anche Gesù fu battezzato e mentre pregava si aprì il cielo e lo spirito santo scese su di lui in forma corporea come una colomba e venne una voce dal cielo tu sei il mio diletto figlio in te mi sono compiaciuto ma Erode il tetrarca rimproverato da lui a proposito di Erodiada moglie di suo fratello e per tutte le malvagità che aveva commesso aggiunse a tutte le altre anche questa rinchiuse Giovanni in prigione Gesù quando cominciò a insegnare aveva circa trent'anni ed era figlio come si credeva di Giuseppe di Eli di Mattat di Levi di Melchi di Iannai di Giuseppe di Mattatia di Amos di Naum di Esli di Nagai di Maat di Mattatia di Semein di Iosec di Yoda di Ioanan di Reza di Zorobabele di Salatiel Capitolo 4 Gesù pieno di Spirito Santo ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni dove era tentato dal diavolo durante quei giorni non mangiò nulla e quando furono trascorsi ebbe fame il diavolo gli disse se tu sei figlio di Dio dia questa pietra che diventi pane Gesù gli rispose sta scritto non di pane soltanto vivrà l'uomo il diavolo lo condusse in alto gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché essa mi è stata data e la do a chi voglio se dunque tu ti prostri ad adorarmi sarà tutta tua Gesù gli rispose sta scritto adora il Signore il tuo Dio e a Lui solo rendi il tuo colto allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse se tu sei figlio di Dio gettati giù di qui perché sta scritto egli ordinerà i suoi angeli che ti proteggano ed essi ti porteranno sulle mani perché tu non inciampi con il piede in una pietra Gesù gli disse è stato detto non tentare il Signore Dio tuo allora il diavolo dopo aver finito ogni tentazione si allontanò da Lui fino a un momento determinato Gesù nella potenza dello spirito se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoge glorificato da tutti si recò a Nazareth dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga a Nazareth e a Nazareth e a Nazareth e a Nazareth profeta Esaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi hai unto per evangelizzare i poveri». Mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si misi a sedere. Egli prese a dir loro «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ed egli disse loro «Certo voi mi citerete questo proverbio? Medico cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova insarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato. Lo fu solo Naaman il Siro». Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Poi discesi a Capernaum, città della Galilea, e qui insegnava alla gente nei giorni di sabato. Edissi si stupivano del suo insegnamento, perché parlava con autorità. Or nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di demonio impuro, il quale gridò a gran voce, «Ai, che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio!» Gesù lo sgridò dicendo, «Taci, ed esci da quest'uomo!» E il demonio, gettatolo a terra e in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da stupore e discutevano tra loro dicendo, «Che parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, ed essi escono!» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione. Poi, alzato, si è uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Or, la suocera di Simone era tormentata da una gran febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, egli sgridò la febbre e la febbre la lasciò. ed ella subito si alzò e si mise a servirle. A tramontare del sole, tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie li conducevano a lui, ed egli li guariva, imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo, «Tu sei il figlio di Dio!» ma egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fatto si è giorno, uscì e andò in un luogo deserto. E le folle lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Ma egli disse loro, «Anche alle altre città bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato!» e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Capitolo 5 Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret, e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, «Prendi il lago». e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose, «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo, «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva accolto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone, «Non temere, dura in poi sarai pescature di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo, «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Ed egli stese la mano e lo toccò dicendo, «Lo voglio, sii purificato». In quell'istante la lebra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. «Ma va», gli disse, «Mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto. E ciò serva loro di testimonianza». Però la fama di lui si spandeva sempre più e moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalle sue infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano la seduti dei farisei ed i dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere i guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. ed egli, veduta la loro fede, disse, uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scrivi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo, chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire, alzati e cammina. Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito il paralitico si alzò in presenza loro, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio e pieni di spavento dicevano, oggi abbiamo visto cose straordinarie. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte. e gli disse, seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si misi a seguirlo. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro. I farisei e loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù, perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Essi gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù disse loro, potete far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Disse loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi e nessuno che abbia bevuto vino vecchio, ne desidera del nuovo perché dice il vecchio è buono. Capitolo 6 Avvenne che in un giorno di sabato egli passava per i campi di grano. I suoi discepoli strappavano delle spighe e fregandole con le mani mangiavano il grano. E alcuni farisei dissero perché fate ciò che non è lecito di sabato? Gesù rispose loro. Non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò e ne diede anche a quelli che erano con lui, benché non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti. E diceva loro, il figlio dell'uomo è signore del sabato. Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era lì un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione di sabato per trovare di che accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata. Alzati e mettiti in mezzo. Ed egli alzatosi stette in piedi. Poi Gesù disse loro, io domando a voi, è lecito di sabato far del bene o far del male? Salvare una persona o ucciderla? E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo, stendi la mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ed essi furono pieni di furore e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, che chiamò anche Pietro. E suo fratello Andrea. Giacomo. Giovanni. Filippo. Bartolomeo. Matteo. Tommaso. Giacomo. Giacomo figlio d'Alfeo. E Simone, chiamato Zelota. Giuda figlio di Giacomo. E Giuda Iscariota, che divenne traditore. Sceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante, dove si trovava una gran folla di suoi discepoli e un gran numero di persone di tutta la Giudea, di Gerusalemme e della costa di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. Quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva un potere che guariva tutti. Egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. E a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tonica. Dà a chiunque ti chiede. E a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvaci. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Poi disse loro anche una parabola. Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire a tuo fratello, fratello, lascia che io tolga la pagliuzza che hai nell'occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dall'occhio tuo la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello. Non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo che faccia frutto buono, perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti, non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dichi. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale costruendo una casa ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia e, venuta a un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Capitolo 7 Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo Egli merita che tu gli conceda questo perché ama la nostra nazione ed è Lui che ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli Signore non darti questo incomodo perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te ma di una parola e il mio servo sarà guarito perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati e dico a uno vai ed egli va a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa udito questo Gesù restò meravigliato di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede e quando gli indiati furono tornati a casa trovarono il servo guarito poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui quando fu vicino alla porta della città ecco chi si portava alla sepoltura a un morto figlio unico di sua madre che era vedova e molta gente della città era con lei il signore vedutala ebbe pietà di lei e le disse non piangere e avvicinatosi toccò la bara i portatori si fermarono ed egli disse ragazzo dico a te alzati il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare e Gesù lo restituì a sua madre tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo e questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose ed egli chiamati a sé due dei suoi discepoli li mandò dal signore a dirgli sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro quelli si presentarono a Gesù e gli disse Giovanni il Battista ci ha mandati da te a chiederti sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro in quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie da infermità e da spiriti maligni e a molti ciechi restituì la vista poi rispose loro andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito i ciechi recuperano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono purificati i sordi odono i morti risuscitano il Vangelo è annunziato ai poveri beato colui che non si sarà scandalizzato di me quando gli inviati di Giovanni se ne furono andati Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla che cosa andaste a vedere nel deserto una canna agitata dal vento ma che cosa andaste a vedere un uomo avvolto in morbide vesti ecco quelli che portano degli abiti sontuosi e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re ma che andaste a vedere un profeta si vi dico è uno più di un profeta egli è colui del quale è scritto ecco io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te io vi dico fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui tutto il popolo che lo ha udito anche i pubblicani hanno riconosciuto la giustizia di Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni ma i farisei e i dottori della legge non facendosi battezzare da lui hanno respinto la volontà di Dio per loro a chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione a chi sono simili sono simili a bambini seduti in piazza che gridano gli uni agli altri vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto difatti è venuto Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite ha un demonio è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite ecco un mangione e un beone amico dei pubblicani e dei peccatori ma alla sapienza è stata resa a giustizia i suoi figli uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice saputo che egli era a tavola in casa del fariseo portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di lui di dietro piangendo cominciò a rigargli di lacrime i piedi e gli asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e gli ungeva con l'olio il fariseo che lo aveva invitato veduto ciò disse fra sé se fosse profeta saprebbe che donna è questa che lo tocca perché è una peccatrice e Gesù rispondendo gli disse Simone ho qualcosa da dirti ed egli maestro di pure un creditore aveva due debitori l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50 e poiché non avevano di che pagare condonò il debito a tutti e due chi di loro dunque lo amerà di più Simone rispose ritengo sia colui al quale ha condonato di più Gesù gli disse hai giudicato rettamente e voltatosi verso la donna disse a Simone vedi questa donna io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli tu non mi hai dato un bacio ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mi hai versato l'olio sul capo ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi perciò io ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui a cui poco è perdonato poco ama poi disse alla donna i tuoi peccati sono perdonati quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire i loro stessi chi è costui che perdona anche i peccati ma egli disse alla donna la tua fede ti ha salvata vai in pace capitole 8 in seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie Maria detta Maddalena dalla quale erano uscite i sette demoni Giovanna moglie di Cusa l'amministratore di Erode Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni or come si riuniva una gran folla e la gente di ogni città correva a lui egli disse in parabola il seminatore uscì a seminare la sua semenza e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono un'altra cadde sulla roccia appena fu germogliato seccò perché non aveva umidità un'altra cadde in mezzo alle spine le spine crescendo insieme con esso lo soffocarono un'altra parte cadde in un buon terreno quando fu germogliato produsse il cento per uno dicendo queste cose esclamava chi ha orecchi per udire oda i suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola ed egli disse a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio ma agli altri se ne parla in parabole affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano or questo è il significato della parabola il seme è la parola di Dio quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati quelli sulla roccia sono coloro i quali quando ascoltano la parola la ricevono con gioia ma costoro non hanno radice credono per un certo tempo ma quando viene la prova si tirano indietro quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità e quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali dopo aver udito la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso o la mette sotto il letto anzi la mette sul candeliere perché chi entra veda la luce poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce attenti dunque a come ascoltate perché a chi ha sarà dato ma a chi non ha anche quello che pensa di avere gli sarà tolto gli fu riferito tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e vogliono vederti ma egli rispose loro mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica un giorno egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro passiamo all'altra riva del lago e presero il largo mentre navigavano egli si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo e suoi discepoli sui discepoli sui discepoli I discepoli avvicinatisi lo svegliarono dicendo maestro, maestro, noi periamo. Ma egli destatosi, sgridò il vento e i flotti che si calmarono e si fece bonaccia. Poi disse loro, ma essi impauriti e meravigliati dicevano l'uno all'altro, chi è mai costui che comanda anche i venti all'acqua e gli ubbidiscono? Aprodarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città. Era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti. Non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, si inginocchiò davanti a lui e disse a gran voce, Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi. Gesù, infatti, aveva comandato lo spirito immondo di uscire da quell'uomo, di cui si era impadronito da molto tempo. E anche quando lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò, Qual è il tuo nome? Ed egli rispose, Legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte. E i demoni lo pregarono di permetter loro di entrare in quelli. Ed egli lo permise. I demoni, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci e quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò. Coloro che li custodivano videro ciò che era avvenuto. Se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente uscì a vedere la caduta e venuta da Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. L'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da grande spaventi. Egli, salito sulla barca, se ne tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo rimandò dicendo «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre Gesù vi andava, la folla faceva arressa intorno a lui. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici, senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero «Maestro, la folla ti stringe e ti preme». Ma Gesù replicò «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me». La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gettatosi ai suoi piedi. Dichiarò, in presenza di tutto il popolo, per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace». Mentre gli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga a dirgli «Tua figlia è morta». «Non disturbare più il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo. «Non temere, solo abbi fede e sarà salva». Arrivato alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, all'infuori di Pietro, Giovanni, Giacomo, il padre e la madre della bambina. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei. Ma egli disse «Non piangete, perché non è morta, ma dorme». E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce «Bambina, alzati!» Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Gesù comandò che le dessero da mangiare e i genitori di lei rimasero sbalorditi ma egli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Capitolo 9 Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire i malati e disse loro «Non prendete nulla per il viaggio né bastone, né sacca né pane, né denaro e non abbiate tunica di ricambio. In qualunque casa entrerete, in quella rimanete e da quella ripartite. Quanto a quelli che non vi riceveranno uscendo dalla loro città scotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. Ed essi partiti andavano di villaggio in villaggio evangelizzando e operando guarigioni dappertutto. Erode il tetrarca udì parlare di tutti quei fatti. Ne era perplesso perché alcuni dicevano «Giovanni è risuscitato dai morti», altri dicevano «È apparso Elia» e altri «È risuscitato uno degli antichi profeti». Ma Erode disse «Giovanni l'ho fatto decapitare. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose?» e cercava di vederlo. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bethsaida ma le folle avendolo saputo lo seguirono ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. «Giovanni l'ho fatto di Dio» Ora il giorno cominciava a declinare e i dodici avvicinatisi gli dissero lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicine per trovarvi cena e alloggio perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli rispose date loro voi da mangiare ed essi obiettarono noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente perché c'erano cinquemila uomini ed egli disse ai suoi discepoli fatele sedere a gruppi di una cinquantina e così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci alzò lo sguardo al cielo e li benedisse gli spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Giacchia Gicrot lechim Tutti mangiarono a sazietà. E dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste. Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui. Ed egli domandò a loro, «Chi dice la gente che io sia?» E quelli risposero, «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, e altri uno dei profeti antichi che è risuscitato». Ed egli disse loro, «E voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose, «Il Cristo di Dio». Ed egli ordinò loro di non dirlo a nessuno e aggiunse, «Bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scrivi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno». Diceva poi a tutti, «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la propria vita, per amor mio, la salverà». Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei Santi Angeli. Ora io vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali apparsi in gloria. Parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno e quando si furono svegliati videro la sua gloria e due uomini che erano con lui. Come questi si separarono da lui, Pietro disse a Gesù Maestro, è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse e i discepoli temì quando quelli entrarono nella nuvola e una voce venne dalla nuvola dicendo Questi è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo. Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. un uomo della folla gridò Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio è l'unico che io abbia. Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida e lo spirito lo contorce facendolo schiumare e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. Ho pregato ai tuoi discepoli di scacciarlo ma non hanno potuto. Gesù rispose o generazione incredula e perversa fino a quando sarò con voi e vi sopporterò porta qui tuo figlio Mentre il ragazzo si avvicinava il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo guarì il ragazzo e lo rese a suo padre e tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva egli disse ai suoi discepoli Voi tenete bene in mente queste parole il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate così da risultare incomprensibili e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande Ma Gesù conosciuto il pensiero del loro cuore prese un bambino se lo pose accanto e disse loro Chi riceve questo bambino nel nome mio riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato perché chi è il più piccolo tra di voi quello è grande Allora Giovanni disse Maestro noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi ma Gesù gli disse Non glielo vietate perché chi non è contro di voi è per voi Poi mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme mandò davanti a sé dei messaggeri i quali partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per prepararli un alloggio ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme veduto ciò i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero Signore vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse voi non sapete di quale spirito siete animati poiché il figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini ma per salvarle e se ne andarono in un altro villaggio mentre camminavano per la via qualcuno gli disse io ti seguirò dovunque andrai e Gesù gli rispose le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo a un altro disse seguimi ed egli rispose permittimi di andare prima a seppellire mio padre ma Gesù gli disse lascia che i morti seppelliscano i loro morti ma tu vada ad annunziare il regno di Dio un altro ancora gli disse ti seguirò Signore ma lasciami prima salutare quelli di casa mia ma Gesù gli disse nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio capitolo 10 dopo queste cose il Signore disegnò altri 70 discepoli e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare e diceva loro la messa la messa la messa è grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe andate ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate nessuno per via in qualunque casa entriate dite prima pace a questa casa se vi è lì un figlio di pace la vostra pace riposerà su di lui se no ritornerà a voi rimanete in quella stessa casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché l'operaio è degno del suo salario non passate di casa in casa in qualunque città entriate se vi ricevono mangiate ciò che vi sarà messo davanti guarite i malati che ci saranno e dite loro il regno di Dio si è avvicinato a voi ma in qualunque città entriate se non vi ricevono uscite sulle piazze e dite perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi noi la scotiamo contro di voi sappiate tuttavia questo che il regno di Dio si è avvicinato a voi io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città guai a te Corazin guai a te Betsaida perché se in tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi già da tempo si sarebbero ravvedute prendendo il cilicio e sedendo nella cenere perciò nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra e tu Capernaum sarai forse innalzata fino al cielo no tu scenderai fino all'Hades chi ascolta voi ascolta me chi respinge voi respinge me e chi rifiuta me rifiuta colui che mi ha mandato mi ha mandato fuori 70 tornarono pieni di gioia dicendo signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuono ed egli disse loro io vedevo Satana cadere dal cielo come folgo ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico nulla potrà farvi del male tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli in quella stessa Gesù mosso dallo spirito santo esultò e disse io ti rendo l'odio padre signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli sì padre perché così ti è piaciuto ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il padre né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo e rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente beati gli occhi che vedono quello che voi vedete perché vi dico che molti profeti e il re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto e udire quello che voi udite e non l'hanno udito ed ecco un dottore si alzò per metterlo e gli disse maestro che devo fare per ereditar la vita eterna Gesù gli disse nella legge che cosa sta scritto come leggi e gli rispose ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua con tutta la forza tua con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso Gesù gli disse hai risposto esattamente ma è un dottore fa questo e vivrai ma egli volendo giustificarsi disse a Gesù e chi è il mio prossimo? Gesù rispose un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatte nei briganti che lo spogliarono lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto per caso per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide ma passò oltre dal lato opposto così pure un levita giunto in quel luogo lo vide ma passò oltre dal lato opposto ma un samaritano che era in viaggio passandogli accanto lo vide e ne ebbe pietà avvicinatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino poi lo mise sulla propria cavalcatura lo condusse a una locanda e si prese cura di lui il giorno dopo presi i due denari li diede all'oste e gli disse prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni quegli rispose colui che gli usò misericordi Gesù gli disse va e fa anche tu la stessa cosa mentre erano in cammino Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua Marta aveva una sorella chiamata Maria la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola ma Marta tutta presa dalle faccende domestiche venne e disse signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire dile dunque che mi aiuti ma il signore le rispose Marta Marta tu ti affanni e sei agitata per molte cose ma una cosa sola è necessaria Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta capitolo 11 Gesù era stato in disparte a pregare quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse signore insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli e gli disse loro quando pregate dite padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione poi disse loro se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice amico prestami tre pani perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti e se quello dal di dentro gli risponde non darmi fastidio la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto io non posso alzarmi per darteli io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono io altresì vi dico chiedete con perseveranza e vi sarà dato cercate senza stancarvi e troverete bussate ripetutamente e vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa e chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra o se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli quanto più il padre celeste donerà lo spirito santo a coloro che glielo chiedono Gesù stava scacciando un demonio che era muto e quando il demonio fu uscito il muto parlò e la folla si stupì ma alcuni di loro dissero è per l'aiuto di Belzebù principe dei demoni che gli scaccia i demoni altri per metterlo alla prova gli chiedevano un segno dal cielo ma egli conoscendo i loro pensieri disse loro ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e casa crolla su casa se dunque anche Satana è diviso contro se stesso come potrà reggere il suo regno poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io scaccio i demoni e se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli perciò essi stessi saranno i vostri giudici ma se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni allora il regno di Dio è giunto fino a voi quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua casa ciò che egli possiede è al sicuro ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperda quando lo spirito immundo esce da un uomo si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non trovandone dice ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito e quando ci arriva la trova spazzata e adorna allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima mentre gli diceva queste cose dalla folla una donna alzò la voce e gli disse beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti ma egli disse beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica mentre la gente si affollava intorno a lui egli cominciò a dire questa generazione è una generazione malvagia chiede un segno ma nessun segno le sarà dato tranne il segno di Giona infatti come Giona fu un segno per i niniviti così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione nel giorno del giudizio la regina del mezzogiorno si alzerà con gli uomini di questa generazione e li condannerà perché la venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone ed ecco qui c'è più di Salomone nel giorno del giudizio i niniviti si alzeranno con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona ed ecco qui c'è più di Giona nessuno quando ha acceso una lampada la mette in un luogo nascosto sotto un vaso anzi la mette sul candeliere perché coloro che entrano vedano la luce la lampada del tuo corpo è l'occhio se l'occhio tuo è limpido anche tutto il tuo corpo è illuminato ma se è malvagio anche il tuo corpo è nelle tenebre sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre se dunque tutto il tuo corpo è illuminato senza avere alcuna parte tenebrosa sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore mentre gli parlava un fariseo lo invitò a pranzo da lui e gli entrò e si mise a tavola a tavola veduto veduto questo si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo il signore gli disse voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità stolti colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno date piuttosto in elemosina quello che è dentro il piatto e ogni cosa sarà pura per voi ma guai a voi farisei perché pagate la decima della menta della ruta e di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amor di Dio queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre guai a voi farisei perché amate i primi posti nelle sinagoge e i saluti nelle piazze guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e chi vi cammina sopra non ne sa niente allora uno dei dottori della legge rispondendo gli disse maestro parlando così offendi anche noi ed egli disse guai anche a voi dottori della legge perché caricate la gente di pesi difficili da portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito guai a voi perché costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li uccisero voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate perché essi li uccisero e voi costruite loro dei sepolcri per questo la sapienza di Dio ha detto io manderò loro dei profeti e degli apostoli ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri affinché del sangue di tutti i profeti sparso fin dall'inizio del mondo sia chiesto conto a questa generazione dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il tempio sì vi dico ne sarà chiesto conto a questa generazione guai a voi dottori della legge perché avete portato via la chiave della scienza voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito e quando fu uscito di là gli iscrivi e i farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a farlo parlare su molte cose tendendogli insidie per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia così da calpestarsi gli uni e gli altri allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti ma a voi che siete miei amici io dico non temete quelli che uccidono il corpo ma oltre a questo non possono far di più io vi mostrerò chi dovete temere temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna sì vi dico temete lui cinque passeri non si vendono per due soldi eppure non uno di essi è dimenticato davanti a dio anzi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati non temete dunque voi valete più di molti passeri ora io vi dico chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di dio ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di dio e chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato ma chi avrà bestemmiato contro lo spirito santo non sarà perdonato quando poi vi condurranno davanti alle sinagoge ai magistrati e alle autorità non preoccupatevi del come e del che risponderete a vostra difesa o di quello che direte perché lo spirito santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire oruno della folla gli disse maestro dia mio fratello che divida con me l'eredità ma Gesù gli rispose uomo chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore poi disse loro state attenti e guardatevi da ogni avarizia perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita e disse loro questa parabola la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente egli ragionava così fra sé che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti e disse questo farò demolirò i miei granai ne costruirò altri i più grandi vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia anima tu hai molti beni ammassati per molti anni riposati mangia bevi divertiti ma Dio gli disse stolto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata è quello che hai preparato di chi sarà così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio poi disse ai suoi discepoli perciò vi dico non siate in ansia per la vita vostra di quel che mangerete né per il corpo di che vi vestirete poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito osservate i corvi non seminano non mietono non hanno dispensa né granaio eppure Dio li nutre e voi quanto più degli uccelli valete e chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo perché vi affanate per il resto guardate i gigli come crescono non faticano e non filano eppure io vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu mai vestito come uno di loro ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno quanto più vestirà voi gente di poca fede anche voi non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete e non state in ansia perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più non temere piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno vendete i vostri beni e dateli nell'emosina fatevi delle borse che non invecchiano un tesoro inesauribile nel cielo dove ladro non si avvicina e tignola non rode perché dove il vostro tesoro lì sarà anche il vostro cuore i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirli appena giungerà e busserà beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti in verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti li farà mettere a tavola e passerà a servirli se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così beati loro sappiate questo che se il padrone di casa conoscesse a chi ora verrà il ladro veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa anche voi siate pronti perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate Pietro disse signore questa parabola la dici per noi o anche per tutti il signore rispose chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così in verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni ma se quel servo dice in cor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i servi e le serve a mangiare bere e ubriacarsi il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà riceverà molte percosse ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche a chi molto è stato dato molto sarà richiesto e a chi molto è stato affidato tanto più si richiederà io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra e che mi resta da desiderare se già è acceso è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra no vi dico ma piuttosto divisione perché da ora in avanti se vi sono cinque persone in una casa saranno divise tre contro due e due contro tre saranno divisi il padre contro il figlio e il figlio contro il padre la madre contro la figlia la figlia contro la madre la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera quando vedete una nuvola venire su da ponente voi dite subito viene la pioggia e così avviene quando sentite soffiare lo scirocco dite farà caldo e così è ipocriti l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo come mai non sapete riconoscere questo tempo perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato fa di tutto mentre sei per via per accordarti con lui perché non ti porti davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esecutore giudiziario e l'esecutore ti metta in prigione io ti dico che non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo capitolo 13 in quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei in cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici Gesù rispose loro pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose no vi dico ma se non vi ravvedete perirete tutti allo stesso modo o quei 18 sui quali cadde la torre in siloe e li uccise pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme no vi dico ma se non vi ravvedete perirete tutti come loro disse anche questa parabola un tale aveva un fico piantato nella sua vigna andò a cercarvi del frutto e non ne trovò disse dunque al vignaiuolo ecco sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo taglialo perché sta lì a sfruttare il terreno ma l'altro gli rispose signore lascialo ancora quest'anno gli zapperò intorno e gli metterò del concime forse darà frutto in avvenire se no lo taglierai Gesù stava insegnando di sabato in una sinagoga ecco una donna che da diciotto anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi Gesù vedutala la chiamò a sé e le disse donna tu sei liberata dalla tua infermità pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio ora il capo della sinagoga indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato disse alla folla ci sono sei giorni nei quali si deve lavorare venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato ma il Signore gli rispose ipocriti ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere e questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben diciotto anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato mentre diceva queste cose tutti i suoi avversari si vergognavano e la multitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute diceva ancora a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo paragonerò è simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto ed è cresciuto ed è divenuto albero e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami e di nuovo disse a che cosa paragonerò il regno di Dio esso è simile al lievito che una donna ha preso e mescolato in tre misure di farina finché sia tutta lievitata e gli attraversava città e villaggi insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme un tale gli disse signore sono pochi i salvati ed egli disse loro sforzatevi di entrare per la porta stretta perché io vi dico che molti cercheranno di entrare non potranno quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta dicendo signore aprici ed egli vi risponderà io non so da dove venite allora comincerete a dire noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze ed egli vi dirà io vi dico che non so da dove venite allontanatevi da me voi tutti i malfattori la ci sarà pianto e stridor di denti quando vedrete Abramo Isacco Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi ne sarete buttati fuori e ne verranno da oriente e da occidente da settentrione e da mezzogiorno e staranno a tavola nel regno di Dio ecco vi sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi in quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli parti e vattene di qui perché Erode vuol farti morire ed egli disse loro andate a dire a quella volpe ecco io scaccio i demoni compio guarigioni oggi e domani e il terzo giorno avrò terminato ma bisogna che io cammini oggi domani e dopo domani perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme 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 che uccidi i profeti e i lapidi coloro che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta io vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui direte benedetto benedetto colui che viene nel nome del Signore capitolo 14 Gesù Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo ed essi lo stavano osservando quando si presentò davanti a lui un idropico Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei è lecito o no far guarigioni in giorno di sabato ma essi tacquero allora egli lo prese per mano lo guarì e lo congedò poi disse loro chi di voi se gli cade nel pozzo un figlio o un bue non lo tira subito fuori in giorno di sabato ed essi non potevano rispondere nulla in contrario notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti disse loro questa parabola quando sarai invitato a nozze da qualcuno non ti mettere a tavola al primo posto perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te e chi ha invitato te e lui venga a dirti c'è di il posto a questo e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto ma quando sarai invitato va a metterti all'ultimo posto affinché quando verrà colui che ti ha invitato ti dica amico vieni più avanti allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te perché chiunque si innalzerà sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato diceva pure a colui che lo aveva invitato quando fai un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i vicini ricchi perché essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio ma quando fai un convito chiama poveri storpi zoppi ciechi e sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare infatti il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti uno degli invitati udite queste cose e gli disse beato chi mangerà pane nel regno di Dio Gesù gli disse un uomo preparò una gran cena e invitò molti e allora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati venite perché tutto è già pronto tutti insieme e cominciarono a scusarsi il primo gli disse ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere ti prego di scusarmi un altro disse ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli ti prego di scusarmi un altro disse ho preso moglie e perciò non posso venire il servo tornò e riferì queste cose al suo signore allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo va presto per le piazze per le vie della città e a conduci qua poveri storpi ciechi e zoppi poi il servo disse signore si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto il signore disse al servo va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena or molta gente andava con lui con lui Grazie a tutti Grazie a tutti Ed egli, rivolto verso la folla, disse Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo Chi di voi infatti volendo costruire una torre non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se, con diecimila uomini, può affrontare colui che gli viene contro con ventimila Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace Così dunque ognuno di voi, che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via Chi ha orecchie per udire, oda Capitolo 15 Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo Ma i farisei e gli iscrivi mormoravano dicendo Costui accoglie i peccatori e mangia con loro Ed egli disse loro questa parabola Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova E trovatala tutto allegro, se la mette sulle spalle È giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per uno solo peccatore che si ravvede Che per novantanove giustiche non hanno bisogno di ravvedimento Oppure qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una Non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova E quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede Disse ancora Un uomo aveva due figli Il più giovane di loro disse al padre Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta Ed egli divise fra loro i beni Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme a ogni cosa Partì per un paese lontano E vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia Ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese Il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano Ma nessuno gliene dava Allora rientrato in sé disse Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza E io qui muoio di fame Io mi alzerò e andrò da mio padre E gli dirò Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio Trattami come uno dei tuoi servi Egli dunque si alzò E tornò da suo padre Ma mentre egli era ancora lontano Suo padre lo vide e ne ebbe compassione Corse Gli si gettò al collo Lo baciò e ribaciò E il figlio gli disse Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio Ma il padre disse ai suoi servi Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai suoi piedi Portate fuori il vitello ingrassato Ammazzatelo Mangiamo e facciamo festa Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita Era perduto ed è stato ritrovato E si misero a fare gran festa Or il figlio maggiore Si trovava nei campi E mentre tornava Come fu vicino a casa Udì la musica e le danze Chiamò uno dei servi Gli domandò Che cosa succedesse Quello gli disse È tornato tuo fratello e tuo padre Ha ammazzato il vitello ingrassato Perché lo ha riavuto sano e sal Egli si adirò E non volle entrare Allora suo padre uscì E lo pregava di entrare Ma egli rispose al padre Ecco Da tanti anni ti servo E non ho mai trasgredito un tuo comando A me però non hai mai dato neppure un capretto Per far festa con i miei amici Ma quando è venuto questo tuo figlio Che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute Tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato Il padre gli disse Figliuolo Tu sei sempre con me E ogni cosa mia è tua Ma bisognava far festa E rallegrarsi Perché questo tuo fratello era morto Ed è tornato in vita Era perduto Ed è stato ritrovato Capitolo 16 Gesù diceva ancora ai suoi discepoli Un uomo ricco aveva un fattore Il quale fu accusato davanti a lui Di sperperare i suoi beni Egli lo chiamò E gli disse Che cos'è questo che sento dire di te Rendi conto della tua amministrazione Perché tu non puoi essere più il mio fattore Il fattore disse fra sé Che farò Ora che il padrone mi toglie l'amministrazione Di zappare non sono capace Di mendicare mi vergogno So quello che farò Perché qualcuno mi riceva in casa sua Quando dovrò lasciare l'amministrazione Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone E disse al primo Quanto devi al mio padrone Quello rispose Cento batti d'olio E gli disse Prendi la tua scritta Siedi E scrivi presto cinquanta Poi disse a un altro E tu Quanto devi Quello rispose Cento cori di grano E gli disse Prendi la tua scritta E scrivi Ottanta E il padrone Lodò il fattore disonesto Perché aveva agito Con avvedutezza Poiché i figli di questo mondo Nelle relazioni con quelli Della loro generazione Sono più avveduti Dei figli della luce E io vi dico Fatevi degli amici Con le ricchezze ingiuste Perché quando esse verranno a mancare Quelli vi ricevano Nelle dimore eterne Chi è fedele Nelle cose minime È fedele anche Nelle grandi E chi è ingiusto Nelle cose minime È ingiusto Anche nelle grandi Se dunque Non siete stati fedeli Nelle ricchezze ingiuste Chi vi affiderà Quelle vere E se non siete stati fedeli Nei beni altrui Chi vi darà I vostri Nessun domestico Può servire due padroni Perché O odierà l'uno E amerà l'altro O avrà riguardo per l'uno E disprezzo per l'altro Voi Non potete servire Dio e Mammona I farisei Che amavano il denaro Udivano tutte queste cose E si beffavano di lui Ed egli disse loro Voi vi proclamate giusti Davanti agli uomini Ma Dio conosce I vostri cuori Perché quello Che è eccelso Tra gli uomini È abominevole Davanti a Dio La legge E i profeti Hanno durato Fino a Giovanni Da quel tempo È annunziata La buona notizia Del regno di Dio E ciascuno Vi entra a forza È più facile Che passino Cielo e terra Anziché Cada un solo apice Della legge Chiunque manda via La moglie E ne sposa un'altra Commette adulterio E chiunque sposa Una donna Mandata via dal marito Commette adulterio C'era un uomo ricco Che si vestiva Di porpora e di bisso E ogni giorno Si divertiva splendidamente E c'era un mendicante Chiamato Lazzaro Che stava alla porta Di lui pieno di ulceri E bramoso di sfamarsi Con quello che cadeva Dalla tavola del ricco E perfino i cani Venivano a leccargli Le ulceri Avvenne che il povero Morì E fu portato dagli angeli Nel seno di Abramo Morì anche il ricco E fu sepolto E nell'Hades Essendo nei tormenti Alzò gli occhi E vide da lontano Abramo E Lazzaro Nel suo seno Ed esclamò Padre Abramo Abbi pietà di me E manda Lazzaro A intingere la punta Del dito nell'acqua Per rinfrescarmi la lingua Perché sono tormentato In questa fiamma Ma Abramo disse Figlio ricordati Che tu nella tua vita Hai ricevuto i tuoi beni E che Lazzaro Similmente Ricevette i mali Ma ora qui Egli è consolato E tu sei tormentato Oltre a tutto questo Fra noi e voi È posta Una grande voragine Perché quelli Che vorrebbero passare Di qui a voi Non possano Né di là Si passi da noi Ed egli disse Ti prego Dunque o padre Che tu lo mandi A casa di mio padre Perché ho cinque fratelli Affinché attesti Loro queste cose E non vengano anche loro In questo luogo di tormento Abramo disse Hanno Mosè E i profeti Ascoltino quelli Ed egli No padre Abramo Ma se qualcuno Dai morti va a loro Si ravvedranno Abramo rispose Se non ascoltano Mosè E i profeti Non si lasceranno Persuadere neppure Se uno dei morti Risuscita Capitolo 17 Gesù disse ai suoi discepoli È impossibile Che non avvengano scandali Ma guai a colui Per colpa del quale avvengano Sarebbe meglio Per lui Che una macina da mulino Gli fosse messa al collo E fosse gettato nel mare Piuttosto che scandalizzare Uno solo di questi piccoli State attenti a voi stessi Se tuo fratello pecca Riprendilo E se si ravvede Perdonalo Se ha peccato contro di te Sette volte al giorno E sette volte torna da te E ti dice Mi pento Perdonalo Allora gli apostoli Dissero al Signore Aumentaci la fede Il Signore disse Se aveste fede Quanto un granello di senape Potreste dire A questo sicomoro Sradicati E trapiantati nel mare E vi obbedirebbe Se uno di voi Ha un servo Che ara o bada alle pecore Gli dirà forse Quando quello torna a casa Dai campi Vieni subito A metterti a tavola Non gli dirà invece Preparami la cena Rimboccati le vesti E servimi Finché io abbia mangiato E bevuto Poi mangerai E berrai tu Si ritiene forse Obbligato Verso quel servo Per chi ha fatto Quello che gli era Stato comandato Così anche voi Quando avrete fatto Tutto ciò Che vi è comandato Dite Noi siamo servi inutili Abbiamo fatto Quello che eravamo In obbligo di fare Nel recarsi a Gerusalemme Gesù passava Sui confini Della Samaria E della Galilea Come entrava In un villaggio Gli vennero incontro Dieci lebrosi I quali Si fermarono Lontano da lui E alzarono la voce Dicendo Gesù Maestro Abbi pietà di noi Vedutili Egli disse loro Andate a mostrarvi Ai sacerdoti E mentre andavano Furono purificati Uno di loro Vedendo che era purificato Tornò indietro Glorificando Dio Ad alta voce E si gettò Ai piedi di Gesù Con la faccia a terra Ringraziandolo Ed era Un samaritano Gesù Rispondendo Disse I dieci Non sono stati Tutti purificati Dove sono Gli altri nove Non si è trovato Nessuno Che sia tornato Per dar gloria A Dio Tranne questo Straniero Egli disse Alzati e va La tua fede Ti ha salvato Un'altra 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 Grazie a tutti Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro Il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi Disse pure ai suoi discepoli Verranno giorni che desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo e non lo vedrete E vi si dirà eccolo là o eccolo qui Non andate e non li seguite Perché come il lampo che balenando risplende da una estremità all'altra del cielo Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà i giorni del figlio dell'uomo Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito Fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti Similmente come avvenne ai giorni di Lot Si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma Piove dal cielo fuoco e zolfo Che li fece perire tutti Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato In quel giorno Chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa Non scenda a prenderle Così pure chi sarà nei campi non torni indietro Ricordatevi della moglie di Lot Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà Ma chi la perderà la preserverà Io vi dico in quella notte due saranno in un letto L'uno sarà preso e l'altro lasciato Due donne macineranno insieme L'una sarà presa e l'altra lasciata Due uomini saranno nei campi L'uno sarà preso e l'altro lasciato I discepoli risposero Dove sarà il Signore? Ed egli disse loro Dove sarà il corpo? Là pure si raduneranno le aquile Capitolo 18 Propose loro ancora questa parabola Per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi In una certa città vi era un giudice Che non temeva Dio E non aveva rispetto per nessuno E in quella città vi era una vedova La quale andava da lui e diceva Rendimi giustizia sul mio avversario Egli per qualche tempo non volle farlo Ma poi disse fra sé Benché io non tema Dio E non abbia rispetto per nessuno Pure poiché questa vedova continua a importunarmi Le renderò giustizia Perché venendo a insistere Non finisca per rompermi la testa Il Signore disse Ascoltate quel che dice il giudice ingiusto Dio non renderà dunque giustizia ai Suoi eletti Che giorno e notte gridano a Lui Tarderà nei loro confronti Io vi dico Che renderà giustizia con prontezza Ma quando il figlio dell'uomo verrà Troverà la fede sulla terra? Ma quando il figlio dell'uomo verrà La fede sulla terra? Ma quando il figlio dell'uomo verrà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Portavano a Gesù anche i bambini, perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo, li sgridavano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse, «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto». Allora Gesù, chiunque non accoglierà il regno di Dio, Uno dei capi lo interrogò dicendo, «Maestro buono, che devo fare per ereditar la vita eterna?» Gesù gli disse, «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Su conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose, «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». Gesù, udito questo, gli disse, «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, disse, «Quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Quelli che udirono dissero, «Chi dunque può essere salvato?». Egli rispose, «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». Pietro disse, «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito». Ed egli disse loro, «Ve dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o mogli, o fratelli, o genitori, o figli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna». Poi prese con sé i dodici e disse loro, «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, perché egli sarà consegnato ai pagani e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno. ed essi non capirono nulla di tutto questo. Quel discorso era per loro oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire». Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco, che sedeva presso la strada mendicando, udì la folla che passava e domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava Gesù, il Nazareno. Allora egli gridò, «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E quelli che precedevano lo sgridavano per chi tacesse, ma lui gridava più forte, «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui. E quando gli fu vicino, gli domandò, «Che vuoi che io ti faccia?» E gli disse, «Signore, che io ricuperi la vista!» E Gesù gli disse, «Ricupera la vista! La tua fede ti ha salvato!» Nello stesso momento, ricuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio e tutto il popolo, visto ciò, diede l'odi a Dio. Capitolo 19 Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Capitolo 19 Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corsi avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse, «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua». E gli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo, «E' andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho affrodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse, «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Mentre si ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque, «Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiamati a sé dieci suoi servi, diede loro dieci mine e disse loro, «Fatele fruttare fino al mio ritorno». Ora i suoi concittadini l'odiavano e li mandarono dietro degli ambasciatori per dire, «Non vogliamo che costui i regni su di noi». Quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Si presentò il primo e disse, «Signore, la tua mina ne ha fruttate altre dieci». Il re gli disse, «Va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su dieci città». Poi venne il secondo dicendo, «La tua mina, Signore, ha fruttato cinque mine». Egli disse anche a questo, «E tu sia capo di cinque città». Poi ne venne un altro che disse, «Signore, ecco la tua mina che ho tenuto nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te che sei uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato». Il re gli disse, «Dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato, perché non hai messo il mio denaro in banca e io al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse». Poi disse a coloro che erano presenti, «Toglietegli la mina e datela a colui che ha dieci mine». Essi gli dissero, «Signore, egli ha dieci mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza». Dette queste cose, Gesù andava avanti, salendo a Gerusalemme. «Come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte Ditto degli Ulivi, mandò due discepoli dicendo, «Andate nella borgata di fronte, nella quale entrando troverete un pulidro legato su cui non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, direte così, il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano stati mandati partirono e trovarono tutto come Egli aveva detto loro. Mentre si slegavano il pulidro, i Suoi padroni dissero loro, «Perché slegate il pulidro?» Essi risposero, «Il Signore ne ha bisogno». E lo condussero a Gesù e, gettati i loro mantelli sul pulidro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Olivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo, «Benedetto, il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». Alcuni farisei tra la folla dissero, «Maestro, sgrida ai Tuoi discepoli!» Ma egli rispose, «Vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno!» Dio , «In Quando fu vicino vedendo la città pianse su di esse dicendo Oh se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace ma ora è nascosto ai tuoi occhi poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata la città la città la città la città la città la città Grazie a tutti. 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 Ogni giorno insegnava nel Tempio, ma i capi dei sacerdoti, gli iscrivi e i notabili del popolo cercavano di farlo morire. Ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. Capitolo 20 Uno di quei giorni, mentre insegnava al popolo nel Tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli iscrivi con gli anziani e gli parlarono così. Dici, con quale autorità fai queste cose? Ed egli rispose loro, anch'io vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano così tra di loro. Se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché non gli credeste. Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni fosse un profeta. E risposero di non sapere da dove venisse. Gesù disse loro, Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Poi cominciò a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la affidò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio per molto tempo. Al tempo della raccolta mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero una parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, dopo averlo percosso, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò un altro servo, ma dopo aver percosso e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo e quelli, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse, che farò? Manderò il mio diletto figlio, forse a lui porteranno rispetto. Ma quando i vignaioli lo videro, fecero tra di loro questo ragionamento. Costui l'erede, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. E lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Dunque, che cosa farà loro il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Essi, udito ciò, dissero, non sia mai. Ma egli li guardò in faccia e disse, Che significa dunque ciò che sta scritto? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è quella che è diventata pietra angolare? Chiunque cadrà su quella pietra, si sfraccellerà ed essa stritulerà colui sul quale cadrà. In quella stessa ora, gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso. Ma temetterò il popolo, perché capirono che egli aveva detto quella parabola per loro. Si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per coglierlo in fallo su una sua parola e consegnarlo così alle autorità e al potere del governatore. Costoro gli fecero una domanda. Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e non hai riguardi personali ma insegni la via di Dio secondo verità. C'è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma egli, accortosi del loro tranello, disse Mostratemi un denaro di chi porta l'effigie e l'iscrizione? Ed essi dissero di Cesare ed egli a loro Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Essi non poterono coglierlo in fallo davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Si avvicinarono alcuni sadducei i quali negano che ci sia risurrezione e lo interrogarono dicendo Maestro, Mosè ci ha prescritto se il fratello di uno muore avendo moglie ma senza figli il fratello ne prenda la moglie e dia una discendenza al suo fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figli il secondo pure la sposò poi il terzo e così fino al settimo morirono senza lasciare figli Infine morì anche la donna. Nella risurrezione dunque di chi sarà moglie quella donna? Perché tutti e sette l'hanno avuta per moglie. Gesù disse loro I figli di questo mondo sposano e sono sposati ma quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo avvenire e alla risurrezione dei morti non prendono né danno moglie neanche possono più morire perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio essendo figli della risurrezione. Che poi i morti risuscitino lo dichiarò anche Mosè nel passo del pruno quando chiamò il Signore Dio di Abramo Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Ora Egli non è Dio di morti ma di vivi perché per Lui tutti vivono. Alcuni scribi rispondendo dissero Maestro hai detto bene e non osavano più fargli alcuna domanda ed Egli disse loro Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice Il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore come può essere suo figlio? Mentre tutto il popolo lo ascoltava e gli disse ai suoi discepoli guardatevi dagli scribi i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti amano essere salutati nelle piazze e avere i primi posti nelle sinagoge nei conviti essi divurano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra costoro riceveranno una condanna maggiore. capitolo 21 Poi alzati gli occhi Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa degli offerti vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli e disse In verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo ma lei vi ha messo del suo necessario tutto quello che aveva per vivere. Alcuni gli fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi ed egli disse Verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Essi gli domandarono Maestro quando avverranno dunque queste cose e quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Egli disse Guardate di non farvi ingannare perché molti verranno in nome mio dicendo sono io e il tempo è vicino non andate dietro a loro quando sentirete parlare di guerre e di sommosse non siate spaventati perché bisogna che queste cose avvengano prima ma la fine non verrà subito Allora disse loro insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoge e mettendovi in prigione trascinandovi davanti al re e a governatori a causa del mio nome ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire voi sarete traditi perfino da genitori fratelli parenti e amici faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma neppure un capello del vostro capo perirà con la vostra costanza salverete le vostre vite quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti allora sappiate che la sua devastazione è vicina allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti e quelli che sono in città se ne allontanino e quelli che sono nella campagna non entrino nella città perché quelli sono giorni di vendetta affinché si adempia tutto quello che è stato scritto guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo carranno sotto il taglio della spada e saranno condotti i prigionieri fra tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti vi saranno segni nel sole nella luna e nelle stelle sulla terra angoscia delle nazioni spaventate dal rimbombo del mare e delle onde gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo poiché le potenze dei cieli saranno scrollate allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande ma quando queste cose cominceranno ad avvenire rialzatevi levate il capo perché la vostra liberazione si avvicina disse loro una parabola guardate il fico e tutti gli alberi quando cominciano a germogliare voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina così anche voi quando vedrete accadere queste cose sappiate che il regno di Dio è vicino in verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorbiditi da stravizio da ubriachezza dalle ansiosi preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio perché verrà soprattutto quelli che abitano su tutta la terra vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo di giorno Gesù insegnava nel tempio poi usciva e passava la notte sul monte detto degli olivi e tutto il popolo la mattina presto andava da lui nel tempio per ascoltarlo capitolo 22 la festa degli azimi detta la pasqua si avvicinava e i capi dei sacerdoti e gli scrivi cercavano il modo di farlo morire ma temevano il popolo satana entrò in giuda chiamato iscariota che era nel numero dei dodici egli andò a conferire con i capi dei sacerdoti e i capitani sul modo di consegnarlo nelle loro mani essi si rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro egli fu d'accordo e cercava l'occasione buona per consegnare loro Gesù di nascosto alla folla venne il giorno degli azibi nel quale si doveva sacrificare la pasqua Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo essi gli chiesero dove vuoi che la prepariamo ed egli rispose loro quando sarete entrati in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua seguitelo nella casa dove gli entrerà e dite al padrone di casa il maestro ti manda a dire dov'è la stanza nella quale mangerò la pasqua con i miei discepoli ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala immobiliata qui apparecchiate essi andarono e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la pasqua quando giunse l'ora egli si mise a tavola e gli apostoli con lui e gli disse loro ho vivamente desiderato di mangiare questa pasqua con voi prima di soffrire poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio e preso un calice rese grazie e disse prendete questo e distribuitelo fra di voi perché io vi dico che ormai non verrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio poi prese del pane rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me allo stesso modo dopo aver cenato diede loro il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi del resto ecco la mano di colui che mi tradisce e con me sulla tavola perché il figlio dell'uomo certo se ne va come stabilito ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi sarebbe mai tra di loro a far questo fra di loro nacque anche una contesa chi di essi fosse considerato il più grande ma egli disse loro i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori ma per voi non deve essere così anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve perché chi è più grande colui che è a tavola oppure colui che serve non è forse colui che è a tavola ma io sono in mezzo a voi come colui che serve or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io dispongo che vi sia dato un regno come il padre mio ha disposto che fosse dato a me affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le dodici tribù di Israele Simone Simone Ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli Pietro gli disse Signore sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte e Gesù Pietro io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi poi disse loro quando vi mandai senza borsa senza sacca da viaggio e senza calzari vi è forse mancato qualcosa e si risposero niente ed egli disse loro ma ora chi ha una borsa la prenda così pure una sacca e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto e gli è stato contato tra i malfattori infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi ed essi dissero Signore ecco qui due spade ma egli disse loro basta poi uscito andò come al solito al monte degli ulivi e anche i discepoli lo seguirono giunto sul luogo disse loro pregate di non entrare in tentazione egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo Padre se vuoi allontana da me questo calice però non la mia volontà ma la tua sia fatta allora gli apparde un angelo del cielo per rafforzarlo ed essendo in agonia egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra e dopo aver pregato si alzò andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza e disse loro perché dormite alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione mentre parlava ancora ecco una folla e colui che si chiamava Giuda uno dei dodici la precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo ma Gesù gli disse Giuda tradisci il figlio dell'uomo con un bacio quelli che erano con lui vedendo ciò che stava per succedere dissero signore dobbiamo colpire con la spada e uno di loro percosse il servo del sumo sacerdote e gli recise l'orecchio destro ma Gesù intervenne e disse Lasciate basta e toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì Gesù disse ai capi dei sacerdoti ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante mentre ero ogni giorno con voi nel tempio non mi avete mai messo le mani addosso ma questa è l'ora vostra questa è la potenza delle tenebre dopo averlo arrestato lo portarono via e lo condussero nella casa del sumo sacerdote e Pietro seguiva da lontano di meron alam E si accesero un fuoco in mezzo al cortile. Sedendovi intorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse, anche costui era con Gesù. Ma egli negò dicendo, donna non lo conosco. E poco dopo, un altro lo vide e disse, anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose, no uomo, non lo sono. GALILEO Ma Pietro disse, uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta. Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Gli uomini che tenevano Gesù, lo schiernivano percotendolo. Poi, lo bendarono e gli domandavano, Indovina, profeta, chi ti ha percosso? E dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando. Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli iscrivi, si riunirono e lo condussero nel loro sinedrio. Dicendo, se tu sei il Cristo, diccelo. Ma egli disse loro, Anche se ve lo dicessi, non credereste. E se io vi facessi delle domande, non rispondereste. Ma da ora in avanti, il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. E tutti dissero, Sei tu, dunque, il figlio di Dio? Ed egli rispose loro, Voi stessi dite che io lo sono. E quelli dissero, Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo udito noi stessi, dalla sua bocca. Capitolo 23 Poi, tutta l'assemblea si alzò e lo condussero da Pilato. E cominciarono ad accusarlo, dicendo, Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re. Pilato lo interrogò, dicendo, Sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli rispose, Tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alle folle. Non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma essi insistevano, dicendo, Egli sobbilla il popolo, insegnando per tutta la Giudea. Ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui. Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. Saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anche egli a Gerusalemme in quei giorni. Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui. E sperava di vedergli fare qualche miracolo. Gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi dei sacerdoti e gli iscrivi stavano là, accusandolo con vehemenza. Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Prima, infatti, erano stati nemici. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro, avete fatto comparire davanti a me quest'uomo come sovversivo ed ecco, dopo averlo esaminato in presenza vostra, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato da noi. Ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Perciò, dopo averlo castigato, lo libererò. Ora, egli aveva l'obbligo di liberare loro un carcerato, ma essi gridarono tutti insieme. Fa morire costui e liberaci Barabba! Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sommossa avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato parlò loro di nuovo perché desiderava liberare Gesù. Ma essi gridavano, Crucifiggilo! Crucifiggilo! Sui, sui, fai due suona al tonno. Per la terza volta, egli disse loro Ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Perciò, dopo averlo castigato, lo libererò. Ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso. Sei, sei, è vera, è vera, è vera, è vera, è vero. e le loro grida finirono per avere il sopravvento Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano liberò colui che era stato messo in prigione per sommossa e omicidio e che essi avevano richiesto ma abbandonò Gesù alla loro volontà Mentre lo portavano via presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù è stato messo in prigione e gli misero addosso la croce all'inizio e gli misero addosso e gli metti e gli suoi addosso Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse Figlie di Gerusalemme, non piangete per me ma piangete per voi stesse e per i vostri figli perché ecco i giorni vengono nei quali si dirà Beate le sterili, i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti cadeteci addosso e ai colli copriteci perché se fanno questo a legno verde che cosa sarà fatto al secco. Ora altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. insieme a lui. Allora! 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 No! Quando furono giunti al luogo detto Il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui dicendo, ha salvato altri, salvi se stesso. Sei il Cristo, l'eletto di Dio. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo questo è il re dei giudei pure i soldati lo schernivano accostandosi presentandogli dell'aceto e dicendo se tu sei il re dei giudei salva te stesso grazie 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 uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo non sei tu il cristo salva te stesso e noi ma l'altro lo rimproverava dicendo non hai nemmeno timor di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni ma questi non ha fatto nulla di male e diceva Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno Gesù gli disse io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona il sole si oscurò la cortina del tempio si squarciò nel mezzo Gesù gridando a gran voce disse padre nelle tue mani rimetto lo spirito mio detto questo spirò il centurione veduto ciò che era accaduto glorificava Dio dicendo veramente quest'uomo era giusto e tutta la folla che assisteva a questo spettacolo vedute le cose che erano accadute se ne tornava battendosi il petto ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano c'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio uomo giusto e buono il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri egli era di Arimatea città della Giudea e aspettava il regno di Dio si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù e il Grazie a tutti. Lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato deposto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Grazie. Grazie. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelli che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzato, sì. Corsi al sepolcro Sicchinò a guardare e vide solo le fasce. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme, 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro Di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose Tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro Quali? Essi gli risposero Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati, lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocefisso. Noi speravamo che fosse Lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate la mattina di buon'ora al sepolcro. Non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che Egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne. Ma Lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, Egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo, Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse. Lo spezzò e lo diede loro. Allora, i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Ma Egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre Egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture. E alzatesi, in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano, Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse Pace a voi! Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma ed Egli disse loro Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi perché sono proprio io. Toccatemi e guardate perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro Avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risurto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori fin presso Betania e alzate in alto le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato su nel cielo. e alzate in alto le mani e alzate in alto le mani e a 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 Grazie a tutti. E dissi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, benedicendo Dio. Grazie a tutti.